Oggi la redazione Giovani Liguria è a Bogliasco per incontrare Paolo Castellini, difensore della San Doria, una chiacchierata su sport, giovani e fair play. Sentiamo cosa ci racconta partendo dalla sua esperienza nel mondo del calcio. Qual è il settore giovanile? Per un giovane sia fondamentale potersi confrontare ogni giorno con altri ragazzi e cominciare a stare alle regole. Credo sia importantissimo per il rispetto nella vita e per riuscire a confrontarsi nella vita proprio di tutti i giorni. Credo sia importante soprattutto fuori dal campo. Poi man mano che si cresce il settore giovanile ti porta magari vicino alla prima squadra oppure ti potresti anche perdere in teoria perché magari vanno avanti altri giocatori che sono più bravi o sono stati più fortunati di te. Però credo che quello che ti può regalare e ti può dare il settore giovanile e le persone che lavorano per una società ti rimanga sempre. Questa è la cosa in cui credo. Io credo di essere stato un fortunato perché comunque ho potuto vivere e crescere in una società tra virgolette piccola come la cremonese dove però si credeva molto nel settore giovanile e si puntava molto a vivere nel settore giovanile perché comunque è riuscita a sfornare diversi calciatori e uno anche che è stato grande qui alla Sampdoria come Gianluca Vialli. Io chiaramente non ho fatto la carriera di questo grande campione però ripeto sono un fortunato perché cominciando in un settore giovanile come quello che ho detto di una squadra medio-piccola mi ha dato la possibilità ogni anno di superare le categorie, di farne sempre una superiore nonostante magari avessi qualche anno in meno e visto i limiti economici, le difficoltà economiche spesso è ricatapultato in prima squadra. Grazie alla cremonese ho trovato la nazionale, l'Under 20, l'Under 21 e quindi credo che l'importanza del settore giovanile sia tanto e sia quasi tutto per un giovane. È vero, l'importante non è vincere però credo che sia d'aiuto per un giovane e cominciare a pensare all'attività sportiva in maniera competitiva perché ti fa tirar fuori quel qualcosa in più che probabilmente non so se uno fosse un pochino piatto magari non ci terrebbe magari non riuscirebbe appunto a andare a prendere quello che uno poi ha dentro perché secondo me noi tutti abbiamo delle qualità dentro di noi incredibili che spesso riusciamo a trovare solo nei momenti di difficoltà e credo che per un giovane sia giusto partecipare, sia giusto essere presente sia giusto avere dei ricordi di ad esempio il settore giovanile, dei tornei giovanili, di queste cose però sia giusto avere un obiettivo e l'obiettivo è quello di provare a fare qualcosa di importante poi non vuol dire per forza arrivare a giocare da professionista, essere un campione magari vuol dire costruire in modo parallelo la vita anche da studente perché comunque nell'adolescenza secondo me è il periodo più difficile che io possa ricordare per quanto mi riguarda è un periodo tra virgolette traumatico perché comunque lì si fanno i veri sacrifici lì ti verrebbe magari da mollare tutto perché faresti la scelta più semplice ovvero faccio il calciatore e gioco però nessuno ti dà la certezza di riuscire poi a diventare un calciatore perché come ho detto prima è componente della fortuna, la sfortuna ai giocatori magari più bravi di te, ai giocatori che sono cresciuti più di te credo che la scuola sia una cosa certa, sia un bagaglio che anche un domani uno ce l'ha che sia un diploma, che sia magari una laura uno ce l'ha nel suo cassetto e quella non gliela toglie nessuno e perlomeno può aprire il minimo delle porte per una vita comunque professionale di un certo tipo Sul discorso del fair play o del terzo tempo o del vivere, io parlo del calcio Un po' più in modo tranquillo diciamo l'approccio alla partita oppure lo svolgimento anche della partita oppure come finisce poi una partita Ecco io credo che siamo ancora lontani dal punto di vista dell'essere insomma vicini a questo fair play A parole stiamo facendo tanto, con i fatti sì, mi viene da dire il rugby il rugby è vero e proprio, c'è un vero e proprio terzo tempo ci si dà delle botte assurde, molto più forti di quelle che ci sono nel calcio perché alla fine noi ci facciamo solletico, fra virgolette e poi alla fine ci si stringe la mano e si va a bere una birra insieme Noi l'abbiamo provato a fare ma siamo ben lontani da arrivare al discorso del rugby Comunque ci sono i presupposti e per quanto riguarda la mia esperienza in Spagna ci si approccia alla partita in maniera differente c'è molta più serenità chiaramente ci sono partite che si sentono e ci sono scene magari brutte comunque che si preferirebbe non vedere però per il 90% delle partite c'è grossa serenità, la gente va allo stadio veramente con i bambini puoi toccare con mano proprio la tranquillità che c'è in un ragazzino che viene a vedere la partita mi è capitato di perdere una partita in casa a Siviglia per 5-0 contro una squadra che era quasi retrocessa e sono uscito firmando autografi ai miei tifosi credo che sia una cosa che qui in Italia non possa accadere probabilmente è anche giusto però non credo nemmeno che sia giusto sfociare in isterismi che poi non portano a nulla che poi portano solo a incattivire la gente siccome non portano neanche tranquillità nei giocatori stessi e sicuramente non sono ad esempio per un ragazzino che sta cominciando a fare dello sport credo che il discorso degli stadi sia molto complesso credo che la Juve stia facendo qualcosa di importante ma soprattutto per il discorso che lo stadio è di proprietà e soprattutto perché sta portando proprio calore secondo me anche alla squadra e io credo che alla fine di questo campionato non so se lo vincerà o meno comunque quello stadio e l'affetto della gente il calore e la gente così a contatto con i giocatori porti come minimo 7-8 punti alla squadra e io credo che anche Marassi per quanto riguarda la sponda blucerchiata credo che abbia un fascino particolare l'ho sempre detto ma io non sono nessuno lo dice chiunque se parli anche con grandi giocatori chiunque ti dice che Marassi è forse lo stadio più bello più affascinante per giocare a calcio credo comunque che per quanto riguarda il discorso a fair play il discorso dell'avvicinarsi anche con le famiglie allo stadio sia fondamentale fare tutti un passo indietro come atteggiamento soprattutto per poi poter godere credo di un futuro almeno rosio altrimenti credo che il calcio faccia fatica a proseguire io non credo al doping nel calcio purtroppo credo al doping perché è evidente che ci sono stati fatti che hanno dimostrato che sportivi abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti sostanze per migliorare la prestazione io credo che nel calcio non ci siano sostanze che ti possano permettere di migliorare la tua performance probabilmente in altri sport magari quei dieci centesimi quel centesimo ti cambia ti cambia la vita ma credo che te la cambi per quel secondo che tagli il traguardo perché poi ti toglie tutto inevitabilmente credo che poi il rimorso il fastidio l'inganno credo che ti ti porti ti porti ad avere un peso addosso che ti renda difficoltosa anche la vita di tutti i giorni poi sai più che doping per quello che riguarda il calcio per quello che ho visto in questi anni ho visto persone magari deboli fra virgolette lasciarsi andare a utilizzo di di droghe o cose di questo tipo perché altre cose non ne ho viste e lì credo che non sia il discorso calcistico ma sia un discorso di purtroppo di di debolezza purtroppo di lasciarsi trasportare trascinare da da ambienti da situazioni da difficoltà familiari non lo so comunque credo che sia legato più a quello no per me ragazzi la cosa la cosa importante è che ci si diverta io ho 33 anni e ancora oggi aspetto allenamento per divertirmi insieme ai miei compagni credo che il calcio mi abbia dato tutto o quasi tutto e la cosa bella è che l'ho potuto condividere con con tanti amici e tanti tanti ragazzi che che magari non hanno avuto la mia fortuna ma sicuro che sicuramente mi hanno dato tanto e e niente secondo me la la cosa principale è quella è quella veramente di di essere liberi di di sfruttare la possibilità di di correre in un prato di fare un qualsiasi altro sport di prendere veramente la vita anche con un pochino di leggerezza perché c'è già tutto il mondo all'esterno che ci porta pesantezza fastidio e dolore quindi io dico divertiamoci divertitevi la cosa più bella del mondo e soprattutto forza santo